Ciao amici di U2 Stories, io sono Alessandro Bracci in arte Bravox e volevo ringraziare in primis Andrea per avermi invitato a partecipare a questa bellissima reunion, chiamiamola così, questo appuntamento con i fans due italiani. Saluto tutti, saluto due plays, due fans Italia, Italian fans, non ricordo, ci sono talmente tanti posti e oggi vi volevo portare questo pezzo parlando appunto di War, che diciamo che è una delle pietre miliari per Noi Fan U2, questo è un pezzo che non ricordo sinceramente se è stato mai proposto dal vivo, sicuramente non su YouTube. Io l'ho riarrangiato a modo mio ovviamente, non sono un buono Vox, quindi spero vi piaccia questa Red Light. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione